Pruriti elettorali in Repubblica Ceca, a pochi giorni del voto, David Cerny, artista noto soprattutto per le sovradimensionate installazioni e provocazioni, ha eretto un dito medio di fronte al castello di Praga, un po' diverso da quello di Cattelan davanti alla Borsa di Milano, che era in marmo di Carrara, ma il senso più o meno è lo stesso e le reazioni dei passanti pure. Tutta la creazione di David Cerny è fatta per provocare, dice questa studentessa, i giovani lo amano molto e quest'opera rappresenta esattamente quello che pensano i giovani. Non mi piace perché questo, come sappiamo tutti, è un simbolo di disprezzo e il fatto che si è rivolto alla sede della presidenza è anche peggio. Non si dovrebbe fare, commenta invece un passante un po' più anziano. L'artista con la sua opera entra di peso nella campagna elettorale, si rivolge al castello di Praga, simbolo del potere, ma anche a residenza di un presidente al quale Cerny attribuisce tendenze antidemocratiche. Quest'opera parla delle politiche del castello, possiamo dire politiche di governo, che tendono dopo 23 anni a riproporre un governo con la presenza dei comunisti, che io, insieme, spero molti altri, considero orribile, vergognoso. Milus Seyman, il presidente, è in forte calo di popolarità, danneggiato anche dalla crisi dell'esecutivo che ha portato alle elezioni anticipate. I sondaggi ora dicono che i socialdemocratici torneranno al governo, ma dovranno cercarsi un alleato, probabilmente proprio il Partito Comunista.